Il turismo è una forma imprenditoriale abbastanza recente, però pone le proprie basi e le proprie radici nell'autogoverno, nella cura e nell'attenzione al territorio. Quindi se il territorio è stato gestito bene, è stato curato bene dai propri cittadini, dalla propria governance, ovviamente il turismo può esprimere un grande valore. Questo vale soprattutto in chiave futura per i nostri giovani che un domani si troveranno ad affrontare nuovi mercati, nuove opportunità, con una logica di un territorio ben gestito, ben governato e ben amministrato. Quindi la riforma è la premessa per un buon futuro anche nel mondo del turismo. Grazie